ed eccoci di nuovo qua allora da quel che sappiamo noi chi sono i giocatori? Lorenzo Memeo contro e lo teniamo già di qua, spero ci sia da quella parte che abbiamo voglia di cambiare contro Matteo Beretta Matteo Beretta attenzione Beretta che l'abbiamo già visto al primo game ora qui col suo 3 a 0 non male vediamo se si sono messi 3 a 0 eh si eh eh no eh ok meno male è andato bene inconfondibile felpa a quadri e power eh ah no beh cambia i mazzi quello è Boros Bulli bravissimo possiamo potremmo potremmo vedere uno scontro tra titani due mazzi che vogliono ammazzarsi dei primi tre turni io mi sto già divertendo vabbè da me è un po' è un po' rosea come aspettativa facciamo 4 5 beh oddio cioè in power difficilmente come scusa power difficilmente turno 3 non spumbi e non chiudi con elfi vabbè no non chiude di terzo si chiude di terzo chiude assolutamente di terzo famoso per le sue giure le voci l'altro è Boros ma devi avere la mano dipinta in bar su cedere di terzo che abbiamo no abbiamo due mazzi che si ammazzano di primi tre turni blizzet blizz ancora e Boros oh e se ha vinto Berri contro l'oretto ma stai ammazzando in primo questo è il quarto turno prima spittano tanto non spittano poi non spittano vedi che se la giocano sì ma hanno spittato no secondo me no sì ma ragazzi hanno spittato e poi la giocano per giocare se è 3-0 non lo so la prima tappa 3-0 3-0 la prima tappa io non avevo spittato maestro maestro o me l'ha detto lui giochiamo e poi me l'ha detto lui e gli ho detto come vuoi io splitterei anche poi e poi porco giuda con tommy splitta se non splittavano arrivavo secondo io porco giuda ovviamente voglio bene a tommy all'onestero ma sì onestamente io ho spittato questo è l'unimento perché c'è nel senso no ma finisco vabbè ma ci siete in 2-3-0 in tutto il negozio ci stanno no più gatti tipo faccio poche tappe ma aspetta non finire la bevuta io ho canna ok ci rimando tipo io adesso farò poche tappe quindi se vengo e se sono 3-0 giocherò per metterlo un po' di classifica ma solo per una persona però ci sta a spittare comunque sì ci sta c'è barri ha fatto un po' di tappe quindi non è stata qualcuna quindi giocarlo a vivere questi appunti in più tanto per questo ma vediamo se non è pronta si si vai per atta e vabbè no boh secondo me ci sta anche giocarla perché di cibo per la sportività la giochi sì 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 infatti ora avevamo vabbè ragazzi io ho fatto questo e io faccio tipo per me il mio ex compagno di classe del liceo vabbè io qua ve lo dico pessimo matchup per berri sai che era un mio ex compagno di classe delle superiori sì però anche stasera pessimo matchup per per blitz perché la e niente berri te l'ha più da un po' fatto al sim no ma perché mi spiace mi spiace mi spiace berri infatti allora l'unica carta più o meno la salva è apostle blessing sì però cioè c'è anche da dire che bulli pende un sacco di tempo con le perismatiche c'è i tentacoli anche anche perché metti che metti che ti fa tipo all in esatto bomba tutto prismatic strength eh decide c'è la carta che impedisce di prevenire il danno che adesso non mi ricordo come si chiama ah ho capito è rossa sì è flashback anche per la carta sì decide è comunque g1 dipende tanto da tini però c'è forse bulli è messo meglio di main bulli è messo meglio di main non lo so perché tanto perché tanto di main non lo so le perismatiche che i botti li giocano comunque c'è a seconda della mano che ci hanno tu e due punto lo chiude subito eh non lo so perché secondo me berri può anche permettersi di cioè di rimuovergli le minacce tanto lui più o meno sul suo piano certo certo piano piano va avanti mentre blitz c'è difficilmente riparte no blitz non riparte anche perché gioca a poche creature due sì il blitz se ti fa due pezzi vuol dire che già ha avuto una buona risorsa della sua parte di creature no beh ma e non sto scherzando due o tre creature te ne puoi aspettare più di due o tre no infatti ma ma per quello che vorrei chiedere subito no berri no berri mi sa che è arrivato in quel momento della serata in prima riga in cui iniziamo a legare e berri intanto c'è questa scrittura a quattro è andato a tre vai berri dai cazzo forse con le sue carte che viene però mamma mia ragazzi che è arrivato a quattro anche qui c'era due volte in mano comunque adesso viene te rapazzo te rapazzo sta potendo ha guadagnato uno ha guadagnato uno non è una cosa scontata ci può fare la differenza no no perché prima aveva vinto facendo tutto il turno e poi ha fatto vintura alla città c'è stato esatto ti si tratta contando quella era vinto c'era dicevo separava si credo boh vabbè comunque non li mette più paranti quindi si e noi oddio però contiamo un battore di tanto tranquille assolutamente eh ok però fai te va bene uno due poi hai certo certo ah tbr è calda fondamentale io comunque avrei sempre paura di i dead briss onestamente dipende da che mal so con bors bulli dico io comunque avrei paura onestamente si si oh minchia siamo ma magari ci può perdere infatti io mando con un mondo ponder tripla terra due sicuro prima montagna terza pesa ora al centro questa è shop le pesca quasi sicuramente si quasi sicuramente anche se non capisco perchè questo fascia si una volta che ti lascia il mazzo sai che le carte che arrivano è perchè non so mi sa che gioca tutte e due può d'orsi può d'orsi 8 cadri mi sembrano troppi questo mazzo vabbè magari non 8 fa 4 perdita non lo so magari si perchè poi vabbè ha tante carte che si ciclano non sto bene nella lista però c'è 4 perdita sono efficienti però magari il quinto il quinto no quello è no doppio doppio cofarchetto al cilatero è qui è qui top deck di land è qui si per forza anche perchè quello che ha dovuto fare adesso metto giù il patch ok è open di una possibilità in realtà si è intravisto il table battle rage che si vede in un ultimo le carte di essere un maledimento il table battle rage esatto si le altre carte sarà anche schifo ma gioca delle carte come spalle di specchi di sicuro di me di side però di me non lo so no no vedi io da giocare ma ragazzi specchi di specchi di specchi esatto è un po' diverso e anche questo anche quello è scusate non ci sta bene specchi se questo mazzo sì ma non di me sì assolutamente ma perché no forse in una io metterei anche di me c'è ragionissimo una scuola un singolo odio anche due copie due non mi fanno scusate due non mi fanno scusate ma adesso siamo lungo tu devi proteggere ma dove fa la rimozione ah un tempo dentro con tutto in realtà forse in questo mazzo ci potrebbe stare addirittura immergersi oh sì sì tanta roba se devi farlo solo per solo per protezione a sto punto meglio per round ci sta chiama il secondo colchetto questo si libera intanto il shuffle ha al cimitero due due lande due falchetti due lande no penso sia una terza lande questo è un turno importante ragazzi eh perché se lo abbassa di tanto non è messo bene verri poi non può usare ti metto già adesso perché non lo riuscirà a chiudere anche se lascia passare e non lascerà mai passare almeno non credo che barri lascia passare dipende se gioca ai mutageniche o se gioca in serie di 6 quando forse in mano non credo per quanto riguarda le mutageniche beh un massaggero può giocare le mutageniche ha gratis dare più 4 più 0 se lui ha lava d'arte butto in mano e lascia passare il barri se non tre più 4 o più 2 neanche più 2 più 2 sì no è tagenica più 2 più 2 però poi tre d'armi eh sì sì quindi è zero margin questo è che è pre-ordine quella è la pre-ordine ah è vedi ok intanto i giochi pre-ordine è un'arte che non conoscevo sì è arrepilante questa io sono sul classico bella quella della manina mi piace un sacco quella è ponte si vede che giovi trovi comunque non giochi i cantri in questo modo quella cos'è che è scusami quella pre-ordine rosso questa è la d'arte è molto forte comunque questi sono tanti danni eh già siamo già a seconda spendi 2 non è kip però 1 prende più 2 più 0 si e kip più 3 prende più 3 per questo c'è un buttagini che mi sembra forte a gratis più 5 4 5 no dai non subito no ma no ok cazzo 6 è e quindi sono 7 danni adesso così e abbiamo battuto il rage che da e c'ha doppia attacca non lo uccide? eh però ha lava d'arte nel cimitero? si allora forse lo uccide magari non ammazzano no no forse si eh si ha lava d'arte lo uccide si si perchè erano allora 5 per 2 è 10 e 5 per 2 è 10 più lava d'arte si però no nel senso 5 pompaggi si si fanno 10 10 di attacco sono 20 20 più il lava d'arte eh si no 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 ho già contato dentro i danni del lava d'arte 21 precisi erano come prima eh no erano di più erano di più erano 5 pompaggi si quindi è a 11 per 2 22 e poi più 1 per 8 per 2 22 no no è 5 pompaggi 1 più 10 si è 11 per 2 22 più il danno della ah più il secondo l'ultimo danno di lava d'arte 23 si no no perchè il primo l'ha tirato sullo squadronotti il secondo glielo tira per faccia si anzi a buffo se lo tira sul suo così tanto non muore ma gli fa poteva tirarli anche tutte e due faccia tanto vabbè te va allora in realtà se sei un giocatore simpatico tu attacchi ti fa partire te lo para fai lava darts su quel pezzo a trample tbr viva tutto faccia eh si eh vabbè ma è più frizzante hai perso è più frizzante è più frizzante se vuoi anche per cuore l'oppo lo fai invece così ha fatto anche di dare le risorse scena 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 come mai no ma va che cazzo serve ci sta scena ma per chi no non in questione c'è ah ok 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 mi pare che abbia anche kinfield eh piro si sicuramente kinfield si diceva si il blu le menta blouse si il red sicuri blu non lo so di sicura vabbè è blu non lo so allora blu non lo so rosso sicuro ce li ho si per forza rosso per forza ma che cazzo che la fai cos'era? non mi c'è della crema non lo so ragazzi se vi interessa c'è la crema e si chiama finta non lo riesco ad aprire eccolo qua no e questo questo è buono questo è buono tra l'altro stanca di 5 anni fa vabbè zina ma vabbè non fa niente lo vediamo dopo no intanto sono ancora facendo la side invece sono partiti ma non credo non giro ancora la side berri ha pescato 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 a parte che non le capita di non si può usare qua non è fatta è chiaro che di umore di umore no scusami così il team si è piaciuto che mi figlio ah adesso è sempre benissimo allora gioca no ma questo è poi quello con quello con eroi no vabbè ma ci sta alcune cose sono uguali ma siamo mai interessanti no la side a me ci interessa la side noi vogliamo blu blu elemental blast ragazzi 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 ma se tu che cerchi sempre su metti i gol non è vero mai cosa si dice ogni volta dice vai su gol il fish eh perchè ti metto da vedere ma cazzo è sotto a bot eh vabbè ma non so se qua li trovi eh si trovi tutto il bot ok ok vai c'è l'izzo per crimping 2% sopra lo zervato qua 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 ah quadro eccolo no ma adesso è buona io ho messo secondo vediamo un po' blitz eccolo qua blitz no perché se vuole ti porti sideboard snap no ma questo è bene tu hai aperto qui oh ragazzi vabbè si lascia stare ma guardiamo la partita che cazzo se ne fai ok ok sto non io guardo non giochi più l'evento al basket ma cosa che stanno su eh non li gioca no magari lui li gioca ah o che poi vedi si trova ah non forse l'ho visto sotto sì allora questo qua eccolo qua ah idroblast ma io eravamo a port ah mutagini bomber ah mi definisco la classe che scrive annual annual di idroblast e no gioca beh anche elettrica vi volendo però vabbè ci sono sempre i tentacoli ah quella è poi una lista che ho visto in su internet non ho letto che sia la stessa un rubulli va bene sì 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 no dico però comunque a tentacoli che che volendo le ho strappesimo di stranze sì però diceva che blitz è il trigger appunto per altri tentacoli lo svalva per proteggersi cosa che non fa invece con Fuse esatto quanto ha mal ligato a 7 tra l'altro prima mal ligato a 7 sì sì tre volte a mal ligato a 7 prima stavamo pensando era un cioè Barry comprava una toxin delage e io e Barry facciamo oh sarebbe forte un po' ma sarebbe forte sì eh e noi ci guardiamo qua ma aspetta spacca anche i guardi ma Barry sbagliò un sacco di l'uomo a tre fianure ah no ah no c'è un tortin delage però Peter Blossom proprio metterebbe no da come tiene le carte lui è il mal ligato poi vabbè se tu non sai gestire le t'ha mazzetta solo non è che forse perché sono solo di ocari di dire Ulamo no no questo è lui che cosa no aspetta a sinistra non ha a lui a me mi ha mal ligato a me Barry tiene a Tavellande ancora ah ok pensavo tenessero a tre di nuovo no ha tenuto a quattro però ne sappiamo tutti come ha tenuto a quattro veramente no è vero perché se vai a quattro vuol dire che hai hai tortex in mano e che perché perché nella scorsa eh nella scorsa vabbè tappa ho un maligato a quattro ha dei piroblasti in mano Barry io dico tre io tendenzialmente con trono ma li do anche quattro e li tengo a trono si tanto perché quattro capi sono trono e una contro quando gioco nella seconda partita contro uno che giochi gli scartini tengo su volande tanto c'è il punto no beh tanto e vado più da trono ok per il senso che da fresco è diventa forte 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 facile perché pensare quando puoi agire a me che commentatore che abbiamo ragazzi vero da un altro pianeta in un altro universo comunque qui siamo messi con 1 a 0 l'oregno mio e noi abbiamo aggiornato malissimo ok ora va tutto bene ma rintanto siamo gustati ma ci sta tanto parte sempre così cioè è un mazzo che può permettersi poi possiamo è vero no no ci sta ci sta come commento no 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 ci sta fase di circostanza che ci sta potevi aggiungere anche tipo non ci sono più le mezza stagione non ci sono più i midere esatto ci sarebbe anche una partita ma va a preordine aeroponder un ponder un ponder un ponder questo è l'art bello questo è ponder no ma gli ho detto poi l'artoscena di ponder mi fa cagare questa ma infatti io c'ho no no io ne avevo non c'era il tritore io ne avevo ne avevo tave così e una signoripilante è una figa infatti le tave così adesso fai a vedere io le ho cambiate ma io vorrei vedere la partita ma state calmi state calmi non riusciamo a vederlo cosa pesca c'è pigli per il culo non riusciamo a vederlo cosa pesca si raga io guarda che sono fino però stronzo non c'era bene che sono bello ma non è che ti c'è da un cinocchio allora al prossimo turno può già appoggiave un bestione c'è un bestione mi sembra che è il crasher tra l'altro che ha in mano no il lago i copri ai tempi secondo me da supervi potrebbe tappare 3 e scegliere se giocare oppure occo ma pensi che è poco forti questo legato un po' domani non lo so cosa vorrebbe giocare qua era una bella corda un gioco aperto per pixel un gioco aperto per pixel anche spettacolo anche spettacolo chiaro ma Barry ha passato così ha passato così non aveva ha passato così no molto c'è due cose che ha di sicuro c'ha bolt o biep o brust si ha delle piroblast in mano si ha delle piroblast in mano potremmo bolt se lo paotegge se lo paotegge se lo and attenzione attenzione fa 3 danni bolt ha blue elementar blast può essere nel caso Barry si si sembra che magari sta solo pensando per fargli chiedere che ha qualcosa e dici no bravo se fosse così e stava pensando per quello e invece no e invece la fa disperca ah dive down quella che dice un p ma che fuori beh giusto scambio di risorse ci sta eh questo fa male a l'ore fa veramente veramente male si 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 ma sempre la mano cerca sempre qualcosa probabilmente rimozione cercherò bisogna di mettere pressione però e io ho giocato o cerca prezzi e che giocatori e magari magari l'andro perché no 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 ci sta vabbè magari l'andro dico no e comenta nella testa dei giocatori pur non giocando al matchup pur non avendo questi mazzi cioè lui invece capire che stessi no è che semplicemente non avendolo fatto assoluto che stessi inizia a scartaranno a scartaranno ce lo dovrebbe avere vabbè che gioca comunque sedici dodici dodici alcune liste dodici c'è due le vedi a partita per lo meno si spera quello lì è il cane quello ha fatto bene a giocare prima l'altro questo giornate un'ora che male che male che male che male un altro oh apposta un blessing si si fa pagare pagare le ha pagate ah che giocatore ok è lì adesso sky fisher si rimbalza si rimbalza giurne eh no lo so però non penso che lo gioco no si c'è sky fisher ma ma come no? i bulli no? questo è bulli eh non è caro di te tranquillo beh magari c'è due sky fisher ma poi c'è anche cos'è anche giocato? un po' fare l'anda un po' fare l'anda un po' fare l'anda si 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 meno mole vabbè in ogni caso mi guarda cattivo non so cosa in mano ma se barri avesse il botto così sarebbe tanto eh ma in ogni caso cioè secondo me lui lo pompa ma si è detto se ne tiene uno back per bauteggio ma tante carte in mano cioè c'è stato un po' le tante cattivo mi dico hai un test non mi dico ma guarda che quella che mi soppi ma non era solo visto cioè potrebbe essere nessuno ma infatti tra l'altro se come faccio a saperlo perché gliela hai visto no perché gliela ho dato io ma perché l'ha giocato bene e avendo due volte la prima della combat non poteva giocare post-com ho capito ha sbagliato il numero deve aspettare ha sbagliato lui è una scelta semplicemente si è tranquillizzato dopo che aveva cos'è che è successo? ha giocato con flashback ora per scarollare ti mostrerà di male anche se le prossime carte sta qualissimo ma tra l'altro questa carta qua è rally quindi non molto bene scartaranda scartabounce ha visto tre bounce? c'è la terra inbound ha fatto tre catura di due kibbi comunque in questa partita gli servono gli servono le ismatic stance magari ce l'hai in mano perché è open di trame come di trame ah è una bounce sì 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 scusa tipo se fossi bambini non apremmi questo trucco anche se la sia possibile tutta una ustega è una delle parole no non è vero sono stati potremmo no infatti infatti anche se passassi non stanno dicendo non è vero non è vero si ha ragione ci sta probabilmente ci sta probabilmente non è vero una scelta sono giocano bene non stanno giocando bene oddio resta 20 compato perché si fa dopo i poteri ci fa ci sto non lo avrebbe mai non lo so se l'ho fatto io sì sì è l'otto eh guarda è è è è è è prossimo turno prossimo turno poto farla prossimo turno poto farla lì però è prossimo farelli fa doppia rally volendo ce l'ha il mono poi c'è l'altra caratteristica ma è già al cesso non posso rispeccare la tua a meno che non è un'altra e ce ne ha un'altra e non si vede chi si è riesce a pescare il maramorfo il maramorfo il maramorfo il maramorfo è un altro però non è non è aperto di tre no è profetessa non è aperto di tre per fare si deve essere giocato di tre a country eh country pure non vuole però è un volto con anche c'è un volto con lo scarico sui terzi non ho molto male non sarei tanto meno tem giusto spera che non chiuda il turno dopo comunque se adesso passa non è agilissimo c'è il volto più non ne sono tra l'è più tanti eh tra l'è più quanti sono tre sei sette otto più tre rivolto più tre otto più sei sono quattro se ha vinto e se passano ha una carta in mano se dovesse parare l'ora è una cartellina perdere le due e una volte se non ho visto una è poi se non gli parano giustamente aveva i due cari eh però così non ho più la vita dopo ci sta però si è protetto lui poteva rischiare comunque no compara con uno solo ah così si ne ha la vita no dipende se hai rally o volte rally lo sciocchio che vuoi flashback ah flashback 5 sì 5 sì interessante ah perché ha parato e poi ha fatto 5 non è solo 6 no non è no no ha stampato è il suo turno ok però così non muore ti ha accesso la testa sì ma mi lo fa aspetta ma fallo la prossima idroblast piroblast ma non poteva tirare piroblast a caso che chiudeva no però la la guardatrice no quella che poi arriva a caso è l'altra è il piro che tira a caso è il piro che tira a caso eh sì è una può tirare a caso l'altra io ho giocato il counter anche per avere il trigger che ti ti dessa prima dice no quando ho attaccato eh ma doppio parato non poteva adesso fa ancora ma sei sicuro che fa solo due donne sì 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 hanno due le vite e sta facendo un'altra eh ma questo è il blessing ma come ha fatto il blessing non poteva chiudere allora bene no ma no perché non dava travolgere ma uno passava con la protezione da bianco passava no se uno bloccava adesso 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 ragazzi con calma chi ha voluto che fa ricordare la partita eh non è successo niente che è tutto che sono tutti i tuoi amici c'è l'associazione è stato quello mi cattiamo non è niente ha impregherato cos'è? ma non è così ma che pescata che è forte sono passati non lo so e mi sa che non sono bloccati ahia eh ma mi sono tanto sta puntando sono 3 8 conta va 5 ok e adesso se un'altra che tu vai è pazzisco che cazzo fai vabbè che serietà ma tra l'altro ha anche straiato quindi cosa si è tirato sotto ah cazzo ho letto adesso anche io albi anche io albi no è sincazzata allora comunque per rinonato questo benissimo eh no eh no 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 ai tempi del turno 1 che c'era il ragazzo che ci parlava di bully in varia attaccato eh ha prismatics in mano se no non l'attaccava lo frega con dispel ah però se ce l'hai in mano lo flashback è thunder forte ora thunder molto forte manomorfosi eh ma io non la userei tanto sei l'ital no no adesso attacchi vedi che succede sei letale così non non devi usare no adesso lo fa più meglio è fin qui questo dice potenzione alfuxia mamma mia che tensione vero ma a sto punto poteva se taglia con un grissino se va letale poteva esatto perché non so se è attaccata bene cioè può essere se c'è molto no ma fai faccia no perché forse non chiudeva adesso volevo 4 per 3 12 più 3 15 no 3 per 3 9 più 3 12 no 3 per 3 9 eh sì basta tanto secondo me dice stiamo schizzi sono una carta una carta bella attività questo partito sì ma un po' inflazionata questa carta se abbiamo che è carta sa non di sacchi le prossime due carte più strane sì mamma sì ma verri no verri si espone un dispell guarda che tira rende e abbiamo poi le forze abbassano ho lavorato a 8 ah cos'è ma cos'è la strenzi in mano c'è al chest al chest sì è per quello che non ha attaccato almeno tra di sacco il spazio è un spazio di spazio lez non so se gioca di spazio ponder porca miseria che forte Ponder è forte bravo io che non riconosco le art tiene sopra poi dice giocatore di blu è giocatore di trono stava guardando la mano adesso Scry sotto adesso fa Ponder tiene sotto Temur batto il rage appena pescato forte no 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 adesso però per voi la trampol ma in realtà basta adesso non chiude Barry adesso deve spiegare a me che non ce l'ha in mano si adesso attacca per fargli usare vediamo un po' si inclina tutto ah giusto giusto no perché secondo me vuole calcolare la Little ma era già in Little si però magari c'è tipo di spell che potrò trovare ah ok l'ha già fatto in questo è nel rosso ma lui voleva vedere più il cartel ma l'ha fatto poi eventivamente perché Barry ha pensato con quella si trova risposta molto probabilmente lo vuole fare perché ha pescato due non ha pescato due non ha messo la carta che era in mano ha scritto come ha pescato ah pensavo che avessero solo visto la l'altra ma la morfosi che fa due mana Scry pesco port beh ragazzi ciao Santa come è andata vinto 2-0 contro minchia allora il matchup il matchup è minchia il matchup è assolutamente quindi sei il top penso di sì quello Oblivion ci sta qui togli tutti i profetizzati però lui gioca nero nero prima non è che sforza però non ha l'italia il Barry può toccare questo un danno anti-synthesizer beh come sono messi 1-0 per me ma che forte che forte eh ma questa forse Barry l'ha stallata eh più che altro Barry c'ha il sign perché si ride eh ma secondo me questo lo foro attenzione questo è se c'ha a TBR è volte in mano paramorfosi TBR anche TBR cazzo doppio TBR no Lava d'arte che non può castare non c'è la mano no aspetta ha 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 battuto il TBR no Lava d'arte Lava darte sacca non ci credo non ci sto credendo e finisce così 2-0 per Lorenzo mamma mia ragazzi comunque io l'amo questa lega vincono solo i mazzi più scemi e comunque e quanto cazzo è bella questa lega rispetto a entrambi che l'hanno portata eh rispetto a entrambi vero la siamo giocata fin dalla fine esatto mi sembra che anche nella prima tappa c'è stato un grande giocatore onorevole che non ha che non ha battato hai fatto bene hai fatto bene beh comunque sulle previsioni siamo tutti forti oggi eh sulle previsioni siamo tutti forti oggi 19 20 20 ottimo non hai capito le previsioni che ha fatto il sim ah ok ah ok è due due game tutti buono pizzo ah tra l'altro ieri te l'ho detto che ieri gliel'hai guffata povero povero verri con le profetesse di avesse di avesse di avesse di avesse belle forti bello con le profetesse vabbè veramente forti che hanno le mie carte e poi mi sono forse ma non è venti ha fatto un risultato buono eh ha fatto un risultato buono possiamo anche iniziare a chiudere perché le partite sono infinite quindi niente vi salutiamo ci vedremo lunedì prossimo per la nuova tappa domani io voglio occuparmi di questo mi sono divertito voglio fare questo ormai abbiamo i documentatori ufficiali della Lega ci saranno i giocatori vincchiapenti 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 ma con vincchiapenti dobbiamo avere vincchiapenti ma ciao ragazzi e alla prossima ciao seguitici comunque